Questa è la mia faccia quando guardo le cose di McDonald's Allora, dopo l'ultimo livello che hai fatto con l'opino di panini, questa è la tua faccia Esatto Mi sembra giustissima E ragazzi, come va? Io sono Feriniki E io sono Steph E questo gioco è Roblox E quest'oggi ragazzi giocheremo nuovamente a ben due escape E iniziamo subito con quello che ci avete chiesto di più, ovvero l'escape dal McDonald's Io voglio subito precisare una cosa Che non si scappa dai McDonald's Dal McDonald's non si scappa, nel McDonald's ci si va Quindi c'è già qualcosa che non va in questa mappa secondo me brutta Ma magari questo McDonald's è malefico Metti che c'è il pagliaccio che vuole fare qualcosa di terribile Quindi bisogna scappare Ci sono i panini? Non lo so, non l'abbiamo ancora fatto Perché se i panini ci sono non c'è una giustificazione adatta a scappare Voglio chiarire subito questa cosa Quindi io giocherò questo escape ma a me non piace Voglio chiarirlo Ci tenevi tantissimo Comunque guarda c'è già un cliente spaventatissimo Che ti dice abbiamo bisogno di scappare dal McDonald's Ma perché lui mangia la Burger King, capito? Ti vuole fregare Allora guarda il primo livello Guarda l'olio delle patatine quanto è sporco Dai non è che sia molto bello questo McDonald's Non mi interessa Finché è buono io non voglio sapere nulla Qui c'è una sfida per i consolini Ketchup o maionese Votate nei commenti Ketchup 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 Assolutamente Ketchup E io addirittura la odio la maionese Se devo essere sincero No mi piacciono entrambi però preferisco il ketchup Ti salgo in testa Allora no spostati che se no mi fai sbagliare Mi sono bloccato Chiedo perdono Mi perdoni? È colpa tua l'hanno visto tutti chi hai cercato di uccidermi Mi ero incastrato Ma bisogna scappare da te e non dal McDonald's Comunque hashtag ketchup Hashtag maionese Voglio vedere Ma secondo me vince ketchup di brutto Credo Il ghiaccio? Ah è una coca cola rovesciata Vedi? È lì alla sinistra Oui Andiamo andiamo È scivoloso? Sì un pochino Fai attenzione che è scivoloso È sempre scivoloso il ghiaccio su Roblox Quindi Ma anche questo sarà scivoloso? Eh sì No no Lì sì No no Boom È perché all'inizio non scivoli Poi in quell'angolino scivoli un sacco Devi andare pienissimo Aspetta Ho capito da Fereniki che è pericoloso E vado con calma Perfetto ce l'ho fatta Vedi che non stiamo scappando Ma stiamo entrando nel McDonald's Ho ragione io Non capisco Non capisco In ogni caso ragazzi Qua abbiamo un problema Che succede? Guarda Ah che inizia a stringersi il percorso Ma secondo te si può toccare la parte di destra? No secondo me no Giustamente non la potrei toccare Ah è impossibile Allora se mi infila Tu sei il primo quindi ti devi muovere Vai Io provo Ok che succede? E che non succede nulla Avevo ragione Se no era troppo stretto dai Era impossibile Non succede nulla? No 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 Anzi è meglio che ci stai lì sopra Oh povero consolino Adesso si fa su serio Allora questo qua È un cheeseburger Mentre l'altre sono le chicken nuggets Wow sei espertissimo Non hanno proprio questa forma da mcdonald Però fai finta che siano dei chicken nuggets Ok ok ci sto Se non ne prendi nove Non vai Non meriti di andare da mcdonald Chi prende quattro o sei chicken nuggets Non se lo merita Ci tengo a precisare È una patatina per finire Oh no Perché questa scomera Oh ok Queste sono quelle che ovviamente Una è giusta E negli altri invece I consolini continuano a spiegarci una tattica Per capire Come si capisce Io continuo a non capire Allora aspetta Però come si fa Tu l'hai capito? Allora sì Ogni volta ce lo scrivono Ma io non ce l'ho ancora fatta Avevo capito Praticamente io so Che se tu metti l'inquadratura di così Dovresti vederlo un po' Che sono vuoti insomma Passaggi Però non riesco mai a vederlo Quindi non lo so Andiamo a casaccio dai Secondo me quello pieno è questo Ok Stavo per andare nell'altro Allora ha funzionato Aspetta Perché? Come lo stai facendo? Sta Se funziona questo qua è quello pieno Sinistra, destra, sinistra Non me lo ricorderò mai Sinistra, destra, sinistra Allora Facile Non li sopporto questi livelli davvero Non li sopporto E poi sarà centro Vai Josh Facci vedere che è il centro Josh Josh Hai una bella sciarpina Forza Vai Josh Vai Confidiamo tutti in te Vabbè dai buonanotte Era centro però mi sono ucciso Oh mamma mia Ferro arrugginito Più Altezza Qua è dura Stai attenta È letale quel ferro Non provare a toccarlo È letale Sì ti assicura Però lo tocchi e esplodi Quindi non farlo Non farlo Aiuto Ok Mamma mia Stavo per cascare di sotto Guarda che questa roba è brutta Si è cascata di sotto Si è cascata? Sì E cosa succede? Perché c'è troppa fila Quindi è difficile farlo Finisci alle Hawaii Se caschi No finisci in cielo In paradiso Ok Ho capito Ti dico solo che dopo c'è di peggio Guarda il mio schermo un attimo Ok Ah bene Sì I miei preferiti Il ferro rimane Però adesso diventa anche preciso preciso Mamma mia Oh no Mi sta guardando malissimo Eh io non vorrei andare verso quella direzione Sai che cosa ha detto? Cioè sinceramente Ha detto che il signor maialino è succulento Che non vede l'ora di mangiarselo No è impossibile Eh sì sì Signor maialino farà in modo di andare di traverso e soffocarlo Fidati Guarda con che occhi lo sta guardando Allora Sì proprio da fame Gli occhi da fame Questa credo sia una lingua E dobbiamo schivare queste cose Quindi stia molto attenta Perché è pericoloso Assolutamente Dobbiamo proprio entrare nella sua bocca Io preferirei evitare certe cose Ok Dove siamo finiti? Ha mangiato della provola poco fa Forse siamo nel suo stomaco Che dici? Sì 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 Si è mangiato delle belle fette di formaggio Poi se non li vanno di traverso queste fette di formaggio Credo che anche il signor maialino Soprattutto mangiate Non può farci nulla Mangiate intere poi Cioè capito? E neanche le ha masticate Ok vabbè Aveva fame Questa era semplicissima Ed è andato di fretta Capito? Eh sì Aveva talmente fame Che si è mangiato tutto Questo? Non so cosa siano Ora si fa su serio Non so perché ci sono delle lambe rotanti Nella pancia di un clown Però ci sono Che fai? Guarda Ma funziona? E ho notato che sono molto larghi quindi Attenta però Penso solo nell'ultimo Devi fare attenzione sinceramente Perché Oh eh Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Sì perché lo noti che il muro si stringe Ho notato subito che c'era uno spazio Quindi sono andata dritta Fai attenzione all'ultimo Perché è quello che mi sembra più stretto E vedi è superato anche le lame Questo è il mondo dove vorrei vivere Questo è il tuo livello preferito Guarda ci scommetto Panini giganteschi Cioè pensa Se tu vivessi in un mondo dove i panini sono così grandi Ma avresti mal di pancia Oh sono caduta Avresti mal di pancia tutti i giorni Cioè non puoi mangiare sempre i panini Ma staresti felicissimo Non lo so Preferirei i dolci Ti dico la verità Guarda se facessi un livello Quello lo sappiamo Tipo con i dolci di McDonald's Sarei molto molto più felice Invece no Solo panini Patatine Tutte queste cose E beh dai McDonald's Dov'è per queste cose Per i dolci No vai anche per i dolci Ma per i dolci vai da altre parti Abbiamo finito Non ti ho aspettato Mi dispiace ma non ti ho aspettato Io ero lì che ti aspettavo No mi stavi Mi hai sbalzato via Scherzi Ho avuto paura di cadere lontanissimo Possiamo fare lo tuo scontro No aspetta Fammi prendere l'ultimo checkpoint Scusami un attimo Stai un attimo fermo Aspetta Aspetta Stai lì Stai lì Questa è la mia faccia Quando guardo le cose di McDonald's Allora dopo l'ultimo livello Che hai fatto quello pieno di panini Questa è la tua faccia Esatto Mi sembra giustissima E io invece voglio Ma non mi piacciono molto No non c'è molta roba infatti E allora mi metto questa Perché è simpatica No Questo non l'avevo mai visto Guarda Deve venire il serpente intorno Voglio anch'io Aspetta Forza ci dobbiamo muovere Dobbiamo andare a fare il secondo escape Ok E in questo caso Dobbiamo scappare da una prigione Quindi qua la roba si fa un po' seria Eccoci qui Eccoci qui Siamo nella cella Guarda che bellittino che ho Oh che bello questo Vorrei mettermi a dormire Guarda Ti puoi fare anche il bagno Eh ma questa è una bellissima prigione Prima di andare ci prepariamo Hai visto Ci facciamo il bagno Siamo ben riposati E possiamo andare Non ho idea da dove Ok Ma da qua? No Ok 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 Allora Allora Nenca iniziato E' più difficile E' più difficile di quanto credessi Fai tutto in fondo Qua Ok Ah Dovevi trovare il modo di passare tra le sbarre Ok Ok Non commento che è meglio Vabbè Vabbè E' un escape un po' particolare Stiamo iniziando a notare che è davvero un po' Oh mamma mia che bello Questo pure era fantastico L'ho apprezzato un sacco Ma io mi sono buttato per scherzare Anch'io volevo scherzare Ho fatto Oh mio Dio È bellissimo Vabbè Sì è un po' particolare rispetto agli altri Però Oh Ancora Aiuto Oh mamma Ma è pieno di passaggi segreti Sto iniziando a capire Tutto E' incredibile Oh No 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 Che cosa è questa cosa rossa? Allora andiamo in fila ragazzi Che sennò Facciamo cadere tutti Ma quelle sono delle monete? E credo dici Magari ti pre No Allora lo saltate così Perché ci cadiamo tutti Moneta 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 Salve Guarda 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 C'è la Wii U Vorrei Vorrei una fune Per finire di scappare dalla prigione No 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 Guarda 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 Questa è la Nintendo Wii U E la mamma gli fa E questa è una Wii E lui fa Mamma io voglio una Wii U Perché ha detto il bambino Che la Wii è troppo vecchia Ma cosa ci fanno Di fronte a una prigione? Scusa me lo spieghi? Non lo so Non sto capendo Però Devi usare la mamma Per saltare Salire E ti prendi le monete No non mi interessano grazie Voglio solo trovare l'uscita Con questo è terribile Mi dai una mano Prigione ti sei incastrato Vediamo Vieni nel cammino Vieni nel cammino Arriva 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 Sì No bellissimo Salire Molto originale Molto molto originale Non so chi l'abbia pensato Comunque la casa adesso È stata sbagliata Per fortuna Che poi siamo andati nell'altra Ok E adesso Sembra ancora lunghissimo comunque Sì sembra lunghissimo Una roba incredibile Te la fanno sudare Sto scendo da una prigione Che succede? Guarda cosa c'è adesso Ok Le macchine Sì Oh mio dio Sì Allora Allora Aspetta che ogni consolino Prenda una macchina Perché altrimenti Le resettano tutto il tempo Esatto esatto Quindi salite tutti Forza forza Ognuno in una macchina Grazie Andatevene Andate 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 Non ci dovete aspettare Tre due Uno Via Via Non vanno Secondo me ci stanno aspettando Capito Vabbè Carina Carina Oh guarda Il cielo Non lo vedevamo da tantissimo Essendo chiusi in prigione Guarda che bello Finalmente un po' di libertà Il ponte Sono delle cose strane Perché qua c'è un ponte Per andare nella zona VIP E come sempre Noi nella zona VIP Non possiamo andare Qui 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 Vieni 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 E poi qua Guarda C'è una stradina super segreta Guarda Guarda lì sotto Che posto strano Allora Ti ci puoi buttare Opla Sì ok Vabbè Potevamo prendere anche le scale Questo è duro Oh mamma mia questo Questo ragazzi È davvero difficile Questo è complicato Questo è complicato Opla Non voglio cadere in acqua Non mi voglio bagnare E ci sono gli squali in acqua C'è un'isoletta segreta poi Quella è l'isoletta dei pirati Quindi è casa mia Andiamo andiamo Forse anche ti ospito Ma sai che credo Che abbiamo proprio finito Sì Dici Sì guarda Se tu vai a vedere a destra Ci abbiamo Escaped E ci siamo Ah vieni qua Guarda Ti dà anche il premio Vieni 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 Vedi Scappato Ok Quindi è finito È stato stranissimo Ti dico Vieni te È stato davvero strano Qua c'è il codice segreto Che solo Io conosco Non ci riesco No 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 A me viene nervoso Con queste cose Vieni perché La cosa più bella Non l'abbiamo ancora fatta Ok Quale sarebbe Praticamente tu Credo che premendo questi Bottoni Ok Ti fai una zatterina Mi vedi? Aspetta La voglio Sì ma se me la Non l'ho toccato io Non l'ho toccato io il tuo Io ne ho toccato un altro Disgraziati Rimangono sott'acqua Vado velocissimo Vado velocissimo Prima che la resettino Non l'ho centrata lo stesso Vabbè fammi vedere tu Dai Sì Ce l'ho fatta Che bello Ce l'ho fatta Che è arrivato nella tua isola Sì E infatti guarda Questa è la stagiola Dove mi sedevo sempre A guardare il tramonto E l'alba Molto bella Giustamente Insieme a Capitan Jeff Ovviamente In ogni caso ragazzi Con questo video Ci fermiamo così Se avete piaciuto Lasciateci tanti like Se avete vedere Tanti altri escape Mi raccomando Commentate Fatecelo sapere Eccetera eccetera E' stato super divertente Il secondo Davvero particolare In ogni caso Vi lasciamo in descrizione Entrambi Anche se quello del mcdonald Era più carino Perché questo Ha delle parti Fighissime Delle parti Che proprio ti lascia Perplesso Sì infatti Non ho capito Se mi è piaciuto Se non mi è piaciuto Esatto Sinceramente Non l'ho capito Neanche io Sono ancora stato d'animo Anche io Bene che se il video Si è piaciuto Lasciateci un bel like E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare L'idea di iscrivervi Per non perdermi Gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao Ciao